Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video di Ritterio sono qua con Pesterminator 3.0 Ora andremo a giocare con un uomo 2048 Questo è il mio primo video ragazzi, spero che vi piaccia Cambiamo la skin, no, teniamo questa, no, si la cambiamo Mettiamo la faccia da solito in online Allora ragazzi, partiamo, 2048 entra in gioco Eccolo qua Quindi ragazzi, baggo un po' perchè non c'è internet Domani vi farò vedere un altro video su King of Tives No, anche oggi lo faccio magari Dopo però, perchè i video sono troppo corti Sennò devono essere minimo di 10 minuti Sembra Con questo coso Che però è utile con le cose Allora Se vogliamo andiamo a vedere tutte le nuove skin Tipo questa Questa e questa, vabbè Le avete già viste Ragazzi, vi dico che comunque questo video è stato girato nel 2016 Per chi lo riguarda Se non l'hanno già cancellato E... Dobbiamo andare Ecco qua ragazzi, ma che fortuna Prima non ce l'avevo così tanta Dai, speriamo che muoia No ragazzi, se muore Mi suicido Cioè, e poi... Ragazzi, non lo faccio Invece no, non mi suicido No, sì, vabbè, sono morto Scusate per la cosa Cosa però Non va in internet Scusate Devo fare una... Va bene ragazzi Vi dico che c'è anche un amico che potrebbe partecipare Che... Però non... Vi devo prima spiegare come fare Quindi ragazzi, solo un attimo No Eh... Due minuti e tredici Ok No, no, no Signore, signori Signori Andiamo avanti Sbaglio No No ragazzi, scusa però Scusate ragazzi Non va Questo video Lo facciamo Ok Grazie